Sì, io posso considerarmi degli sgarri e ripeto, quando vado in gara, tante volte, soprattutto nelle gare in mare, finisco le riserve di carboidrati, quindi inizio ad accingere a grassi e a tutto quello di quel campo, quindi effettivamente cerco anche di mangiare un po' di grassi, e quelli giusti e non in eccesso, che però mi aiutano anche in quello che faccio.